ehi ragazzi ciao a tutti da nick e bentornati a questo farmix monitor 19 ragazzi oggi sono in compagnia del mio moderatore pietruzzo pietro buongiorno buongiorno a tutti ragazzi il calabrese raga il mio moderatore oggi ci farà compagnia in questo video ci darà una mano allora pietro pietruzzo abbiamo già un po discusso e lui praticamente andrà a fertilizzare i miei tre terreni mentre io vado a rimuovere l'erbaccia sempre sui miei terreni quindi piaciuto accomodati pure tanto non da pago travaglia e vai 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 e travaglia con me non si sta femmina allora raga mettiamo il gioco veloce ragazzi perché l'erba appunto ancora sta a crescere come potete notare così io mi occupo un attimo di quella e poi non so con pietro magari tagliamo un po di legna che siamo in due vediamo qualcosina da fare la troviamo di sicuro per intanto questo questa cippatrice per intanto a me non serve non mi serve e quindi per ora la lascio qua non è neanche mia ma per ora non la restituisco magari non lo so ne farò un altro utilizzo magari la utilizzerò ancora un po dunque mi serve il sarchiatore a me eccolo qua a tu cominci la vabbè buona è tanto pure sì sì pure io mi metto la pure io mi metto la ruote strette per ora non ce ne vogliono perché tanto alla fine tanto alla fine ancora il raccolto non è cresciuto quindi direi che non mi servono le ruote strette no quindi allora come come piero e piero se so fissato pietro come buono è come buono cosa per fertilizzare buono è sì sì è pure bello grande a me piace sapevo che ti piaceva grande sai è anche bello lungo ha visto sì sì ognuno c'è i suoi gusti giustamente comunque sia comunque sia ragazzi io col mio bellissimo new holland t5 120 se non ricordo male esatto fiat centenario beh col mio new holland rimuovo l'erbaccia cattiva ma tanto tanto cattiva e molto cattiva questa erbaccia eh sì è molto cattiva ogni tanto dice ogni tanto c'è ti spacco tutto di spacco ogni tanto è proprio cattiva è molto 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 cattiva e allora vediamo un po alberi da abbattere ancora ce n'è un bel po e beh che dire ragazzi qua in questo spiazzale prima o poi qualcosina ce la metto anche se a dire la verità io qui ho tolto tutto proprio perché l'operaio ci andava a sbattere quindi quindi insomma non penso che ci metto chissà che qui davanti perché l'operaio se no va a sbattere di fatti ho fatto piazza pulita proprio per sto motivo di fatti come notate mo pietro fa un po fatica lì perché la non è più mio terreno e non ho potuto togliere quegli alberi la purtroppo quelli non ho potuto toglierli quindi vediamo non lo so però ancora un mucchio di alberi da abbattere portano soldi come potete notare ci abbiamo 45 mila euro e e vediamo no penso che qualcosina la compreremo a me piacerebbe il terreno 30 terreno uno piacerebbe mi piacerebbe comprare il terreno uno non appena un po di soldi con gli animali stiamo a posto sì con gli animali stiamo a posto hanno tutto diciamo i cavalli li ho già portati a passeggio 30 mila euro valgono due e 22 mila gli altri due quindi insomma abbiamo in tutto 100 mila euro di cavalli se li vendo già ora posso comprare il terreno uno ma ma io preferisco lasciarli diciamo maturare ancora un po sti cavalli ok è finito piacciozzo sì questo terreno ci sto andando al terreno 6 ora che ci penso raga dovrei coprire dovrei coprire il silos dell'erba così diventa insilato quindi già dovrei fare avanti e indietro un po di volte credo devo fare avanti e indietro un po di volte ma dovrei compattare non è molta questa erba ma vabbè ma che ci vuole a compattare appunto un po di erba vabbè non ci mettiamo niente ma appunto mo faccio un po avanti e indietro raga compatto e almeno abbiamo 50 51 mila di insilato da vendere poi sì lo vendo perché ho bisogno di soldi con i soldi ci facciamo sempre qualche cosa a posto io ho finito anche il 6 vado a fare il 12 va bene vai a fare il 12 io ancora sto al 68 69 per cento di compattamento ok allora 100 per cento dai fatto 100 per cento un po è fuori ma non importa copri vabbè un po fuori poi lo sistemo un'altra volta dunque dobbiamo andare a sì dobbiamo fare vado a fare un po di 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 legna va quindi sì andiamo a fare questo volendo ci stanno le missioni ma vabbè è giusto per stare un po insieme a pietro perché se no se faccio la missione a pietro non lo vediamo proprio quindi per ora questo lo lascio qua e questo ha finito però sicuramente lo devo mettere sul 12 no sul 12 erba non ce n'è allora lo devo mettere aspetta che aspetta il gioco veloce sul 6 ce n'era un po si lo so ma sul 12 stranamente non ce n'è magari mo comincia a comparire no sul 12 c'è ok è uscito ora io non la vedo ah eccola sì no ok è che se non chiudo e riapro non si vede se non chiudo il menù e poi insomma hai capito no non si aggiorni in tempo reale il menù allora abbassa abbassa e cominciamo a rimuovere l'erbaccia perfetto e piano piano si fa pure questo l'unica scocciatura qui sono proprio gli alberi che sono troppo vicini gli alberi sono proprio troppo vicini al terreno e mi causano un mucchio di problemi ma vabbè ma vabbè che volendo faccio una bella cosa e freghiamo e freghiamo un po la situazione mo vado un attimo da quest'altro lato intanto che lui arriva ma non è un problema è bravo bravo così l'operaio dopo non dà problemi esatto faccio così e l'operaio capirà e l'operaio dovrebbe capire di solito capisce di solito di solito capisce poi altre volte magari no a posto e fino a qua ci siamo ora ci metto l'operaio intanto pietra quasi finito e poi vediamo vediamo un po di legna qualcosa da fare ci sarà abbassa metti l'operaio allora beh volendo posso anche dare un'occhiata alle missioni tanto per no ma avvolgi balle beh volendo possiamo fare una missione di avvolgi balle la facciamo? si si può fare in coppia si per me penso di sì perché uno deve fare erba uno la carica lì che cacchio ne so ma famo questa va vabbè gli alberi famo questo avanti vai ok ma uno solo è il trattore vabbè io ce li ho tanti i trattori dai va bene allora vengo a posare sto cosa a casa va si 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 vediamo un po dunque 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 il trattore è uno uno ce lo mettiamo noi ehm pilliamo questo ma il peso a me non mi serve a chi serve il peso? ah serve per quello che prende la il peso serve a quello che prende l'imballatrice namo 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 ok allora terreno number 19 terreno 19 mo l'ho visto ok porta un trattore al negozio non so piglia può pigliare il fiat no il fiat è quello che stavo usando io mi sa no il fiat ce l'ho io che ho fatto ah già si no 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 vabbè siccome si chiama fiat centenario quello si chiama fiat centenario e quindi l'ho chiamato fiat vabbè comunque come vuoi basta che vai nel negozio e prendi l'imballatrice quello davanti lo dispieghiamo pure abbassiamo accendiamo abbassiamo accendiamo l'imballatrice col fiat non ce la faccio a tirarla dici è l'unico trattore più potente che ho guarda della mezza non c'è il che il new holland il new holland e ma quello meno cavalli c'ha senti vabbè guarda non ne parliamo perché sto trattore che mi hanno dato a me è proprio una ciofeca disumana c'è che miseria faccio sette chilometri orari quando me va bene c'è ma che scherzi ma che trattore mi hanno dato devo darmi un trattore più decente ma quanti cavalli c'ha sto trattore oddio ma io mi faccio vecchio qua eh c'è più di quanto non lo sono già ma scusate perché non vai a pigliare quel coso lì per fare le balle si stavo vedendo qua ah volevi dare un'occhiata c'è tre chilometri orari fa ma è possibile lo trattore è troppo scarso se no prova prima a tagliare poi dopo eh sì mi sa che quella è l'unica però il problema sì eh sì va molto meglio eh sì va molto meglio e allora fa una cosa vai vabbè porta l'imballatrice però invece di imballare subito mettiti a fare l'andana va si eh va già un po' meglio ma fa comunque un mucchio di fatica ok l'aiutante ha completato il lavoro vabbè tanto bisogna poi portarlo sul terreno sei ma vabbè fretta non ne ho comunque si diciamo che va molto meglio ma va molto molto meglio eh purtroppo quel sistema lì mi sa che purtroppo non lo si può usare con un trattore così così vecchiotto diciamo come no vecchiotto no è scarso insomma pochi cavalli eh vabbè basta che lo famo sto lavoro e me lo tolgo dalle scatole oh Pietro Paciuzzo sta arrivando Pietro buongiorno buongiorno Pietro il bello ragazzi è che Pietro queste cose le fa anche nella realtà e mo le fa pure nella finzione lui è un vero campagnolo nella finzione lui è un vero zappavigna comunque ho pensato una cosa eh puoi fare così puoi staccare eh il sarchiatore metterlo a fiat perché ce la fa e prenderti quello la per rimballare perché secondo me va meglio ma mo vediamo dai mo vediamo tanto qua devo finire comunque io quindi quindi dai ormai devo perché tanto qua se non ci mette il peso dietro questo non è capace e mo sinceramente a fare avanti e indietro per prendere il peso ormai che manca poco e ho finito ormai e vabbè ormai è andata così dai tanto io ne faccio io odio le balle le balle mi danno sempre problemi mi causano sempre qualche problema e vabbè che per questo terreno manco scherzo è bello grande pare piccolo però per quanto riguarda per quanto riguarda l'erba cavolo è bello grande allora un ultimo giro circa un penultimo giro e poi e poi e poi e poi e poi possiamo finalmente fare le balle ok a posto e fino a qua ci siamo vediamo un po' quello si sta chiudendo quello si sta chiudendo ora per intanto questi che non mi servono le vado a posare in farm e poi le restituisco poi le restituiamo eh no si solleva dietro cavolo perché ci vuole un minimo minimo ci vuole un bel peso dietro ok raga cominciamo ad imballare eh sì ad imballare cominciamo ad imballare eh questo quest'erba e poi la dobbiamo caricare e la dobbiamo consegnare quindi retromarcia abbassa e cominciamo a caricare devi prima di spiegare l'attrezzo hai ragione l'ho dimenticato perfetto raga ah no l'erba qua è cominciamo quindi raga a caricare piano piano quest'erba quindi una balla dopo l'altra le facciamo tutte le carichiamo e le consegniamo questa è la prima eccola qua che sta per uscire poi c'è la seconda subito dopo e mo piano piano spinge la prima e così via e man mano cadono e man mano cadono tutte quante vediamo un po' vediamo un po' ci siamo quasi ci siamo quasi mo tra un attimo cade vediamo 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 eccola che cade ci siamo ci siamo andamo forza 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 perfetta perfetto la prima balla ragazzi è andata e caduta mo tutte le altre piano 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 ne facciamo un bel po' di balle dai oh questo trattore è lento pura di ballare questo trattore è lento anche in discesa questo trattore è una cifeca ma non piglia mai velocità non è niente quello che fai fai lui è sempre lento allora io questo ho finito ok senti va continua tu va e quello li mettilo da parte tanto alla fine poi sparirà quando restituisco vado 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 al negozio va vado a prendere il carrellino che comincio a carica ste balle allora aspetta ma che no non mi dire che no no ho fatto una cavolata ho fatto ovvero dovevo farci fieno non erba e mo e ma l'attrezzo non c'era sì che c'è qua dall'altro lato era qua chi cacchio l'ha visto aspetta voglio vedere dove no lo sto portando ma ormai è tardi perché ho già fatto un bel po' di balle fermati non fare altre balle no no infatti mi sono fermato ah scusa se l'annullo che cosa succede no per dei soldi quali soldi gli devo dare io 5.000 euro a lui mi sembra di sì e abbassate se mo siente famo una bella cosa va famo una bella cosa intanto le balle che abbiamo fatto io me le carico e me le porto via perché se devo annullare la missione non le perdo a me non mi arrestano ormai quelle balle lì non gliele posso dare quindi le vado a conservare quelle balle le posso solo conservare per me perché tanto sono inutili non ci faccio niente cioè per la missione sono inutili quelle balle le vado a conservare a casa mia le uso per le uso per le pecore allora raga e cominciamo a carica ste ballette va ormai le metto da parte per me è meglio di niente per non perdere al 100% il guadagno ormai me le carico e via che vogliamo fa ormai è andata così ormai di sbagliare ho sbagliato eh ma sono tante balle quelle che dovrei tagli eh eh cavolo già sono 4 8 12 16 mila già di fieno ma sto terreno a fieno di dire questo 19 questo ma forse si può comprare ovviamente non lo so sarà di qualcuno sarà acquistabile ma non è non è non è un terreno attualmente diciamo mio allora qui abbiamo 4 8 12 16 16 16 32 48 52 52 56 no ci vuole troppo fieno un po troppo 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 fieno non ce l'ho tutto sto fieno da dare per la missione magari prova a dargli quello che c'hai no e basta non ho fieno a sufficienza io ci avrò sì e no ho 42 mila o 46 mila ma già ho calcolato che qui ho raccolto io già qui ho raccolto un bel po' ma te hai già fatto fieno? eh sì vabbè ehm 90% quanto ho fatto? 87% di 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 balle di erba facciamo così ma questo fieno lo raccolgo per i cavoli mia lo vendo dovrei forse recuperare i 5 mila euro che ci vado a perdere vabbè diciamo che alla fine mi rimangono le balle di erba dai ormai è andata come è andata amen beh potrei metterle qua dentro se ci stanno sì dai qua ci stanno le metto qua raga è buono dai le uso per me ormai ok perché più indietro di così non si può sganciate allora io imballo? no no non devi imballarlo ok no 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 non devi imballarlo comunque c'è il cassone quello quello rosso no? quello snodabile lì insomma ma non raccoglie perché? e tieni premuto il destro del mouse e abbassa il pezzo abbassa eh ho fatto e poi non mi ho butto ma lo farà a me va vuoi farà cambio vai 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 ok teniamo un po' ma teoricamente dovrebbe raccoglierlo ma che fa non lo raccoglie secondo me il carrello non è adatto per il fiero no non raccoglie non lo raccoglie ma non è che ci vuole qualche tasto per farlo buttare no oggi oggi non me ne sta non me ne va bene uno ma beh qui eppure e qui segna tutto qui sto coso segna tutto e forse beh ma anche lui anche sto cassone mi segna qui c'è scritto fieno il cassone e il fieno gli va bene mentre il pezzo che sto montando ora dovrebbe andare bene pure lui allora dove sta oh ma che ti sei messo lì e non riesco andata da nessuna parte oh scusi vabbè va no oggi 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 non è giornata oggi non è giornata facciamo una bella cosa va chiamata bella devo riprendere a noleggio quel pezzo che ho venduto l'altra volta e se non ricordo male questo non caricava l'erba ma caricava il fieno quello il contrario carica l'erba e non carica il fieno perfetto allora torniamo indietro ok vediamo oh non piglia veramente eh te l'ho detto e vabbè dai e vabbè ma che significa e allora e allora ci faccio le balle scusa e allora faccio le balle e me le porto via cavolo eh scusa e allora ultima striscia un'ultima strisciolina e vabbè l'importante è che ce la facciamo ma io non lo so se queste balle le posso dare così come sono al mio bio eating o come cavolo si chiama cominciamo a caricare la prima poi la seconda poi la terza mi sa che quella è una balla di erba perché è di colore diverso credo almeno allora mancano le ultime due balle raga e me le porta a casa e vai prima prima le porta a casa e poi e poi e poi annullo la missione no quello non è il mio comunque eh lo sto lasciando qua infatti eh dunque raga dunque io vorrei provare a scaricarle qua che se le prende per me è perfetto se le prende è perfetto se riesco a venderle non mi dispiace lo spero tanto non lo so ma se 5.000 euro 5.000 euro magnifico quella lì quella lì vabbè poi in qualche modo la tolgo per ora può stare anche la ok perché quella è di erba questa è una balla di erba e non la prende non la vende va bene quindi ragazzi le raga le balle di erba le usiamo per i fatti nostri le balle di fieno le ho vendute per 5.000 euro annulliamo la missione forse ci perdo 5.000 che cacchio ne so e perdere tutti i pagamenti noi a dia verità ci ho guadagnato lo stesso credo ci hai guadagnato sì sì perché non mi ha portato via manco una lira per fortuna quindi ragazzi alla fine per fortuna ci abbiamo guadagnato anzi a dia verità ci ho guadagnato pure di più perché ho venduto per 5.000 euro e dovevo guadagnarne 5.000 e 4 e in più mi è sottottenuto pure un carico di erba qui di valle di erba quindi alla fine comunque è andata bene va boh ragazzi allora concludiamo qui con questo gameplay speriamo tanto che vi sia piaciuto mi raccomando ragazzi come sempre commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicione in su vi ricordo che in descrizione vi lascio un link che vi permette di comprare questo gioco scontato raga vi salutiamo ciao alla prossima bye